La morte della donna è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì nel reparto di ostetricia e ginecologia delle cliniche San Pietro dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari in Sardegna. La vittima è Giovanna Satta che era stata da poco ricoverata proprio per una complicanza legata alla gravidanza che i medici avevano definito complicata. I medici sono riusciti a salvare la piccola che portava in grembo ma non la mamma. Giovanna lascia altri due figlie di 3 e 5 anni e un marito che secondo quanto si apprende è attualmente disoccupato. Per quest'ultimo si sarebbe già avviato una catena di solidarietà. Grazie 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 Grazie